Buongiorno a tutti i giorni di agosto del 2016. Grazie a tutti per accompagnarci a noi attraverso i segnali di Teleruba e attraverso i Facebook. Grazie a tutti i ganatori che abbiamo fatto il lotto di dia a ieri nocci e a tutti i giorni abbiamo fatto il jackpot per il lotto di dia e abbiamo fatto 50 milioni. E con noi in studio abbiamo fatto il lotto di controllo di copiare. Non si chiama come dice che è promesso che può abitare con il 14, ma è sempre un'esperienza di tornare a casa. Promebolito che ti appare sempre, prome premio di 14, va abitare di da bere numero 1. Se chiama numero 7, 5. Un'ultima oblita, prome premio di 14, da bere numero 4. 1, 7, 5, numero 4. Se chiama numero premio di 14, va abitare di da 12 premio di 14. Siete Quattro Se viene abilita per un numero Dos Ultima abilita per un numero Cinco, siete, quattro Dos, cinque, sei, tabira E di dos premio di cattocci Pabilitari, si gribi a pe di tres premio di cattocci Cinco Numero uno Seis Ultima abilita per un numero uno Cinco, uno, seis, uno, seta E di tres premio di cattocci Pabilitari, si riava, big four E mi supremo sempre partito Ocho Nueve, seconda abilita per un numero Nueve, ultima abilita per un numero Ocho Ocho, nueve Nueve E numero ocho Se hai da big four Pabilitari Laten si gribi a pe nos premio Zodio che non sta binti di augustus 2016 Siete Dos, si gribi a pe, tabira Número tres Ultima abilita per Zodiac Avitari, tabira Número uno Siete, dos, tres E numero uno Se hai da Zodiac Pa avitari Pabilitari Sorteo A que la van serviar Sigh Número Paravitari Si no se finilinza Da menos premio Zodiac Sigh Número Brevetari Ta aquario Aquario Ta isi Número Brevetari Laten si pasam Biamas Rami numera Ganador Que ta parecendo Ribopanta Iskububrindad Pa controlai Prometres Premio Número Número Tocchi Big four E tamve Zodiac Sparbo Tecad Número Número De Ten Times The Money E Gold Roche Pa participa De Número Back To School Prometre Premio 4 HP Laptop De Dos Samsung Galaxy Tablet E D3 Premio Dos Telephone Galaxy Campagna Termina 28 Augusto Biamas Tocchi Gano Dorni Di Avitare Di Lotteria Di Aruba Cambiando Bisogna Dorni D'Ortista Di Aruba Con Like Non Scriba Facebook E Fala Twitter Per Risultato Di Meritio Fanoci Visit Lotto Aruba Dotcom E Come Noc C'è Ora Stai Back Poi Sortez Di Lotto